Venezia nel caffè piazza, venerdì verso sera, 22.11.1807. Diversamente che a Vienna, qui ci si ritrova interamente tra cose indicibili. Seppur assistiti da una comprensione infinita e da un'intima consonanza, nei palazzi privati, vengo proprio ora da un palazzo sul Canal Grande che appartiene al conte Donà delle Rose, il quale lo ha ereditato con tutte le superlettili. E i quadri dai Barbarigo Michiel, due famiglie di doci. Avresti dovuto vedere la luce di un pomeriggio veneziano su questi arazzi fiamminghi, negli sterminati specchi che contengono se stessi e nei quali le cornici di legno fiorite e intagliate sono cresciute nella loro esuberanza barocca. E ci sono lunghe gallerie con alti ritratti di cardinali violetti, di procuratori purpurei e ferrei generali rigidamente eretti, fra i quali un pesante cavallo bianco alza la zampa nel passo. Ed uscire da un interno simile sulla terrazza di marmo. Tu puoi immaginare che questo ha un senso per me. E poi ci fu una sera frettissima, ma prodigalmente effusa sulla riva. Questo nel frattempo come breve saluto perché, per scrivere lettere, non è tempo ancora. Tuo Rainer Maria